Continua il lavoro dei volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile Città di Agropoli impegnati su tutto il territorio agropolese dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I volontari sono quotidianamente in prima linea per sostenere tutti i cittadini e in particolare le fasce deboli. Noi ci occupiamo anche dell'assistenza domiciliare, quindi che gli consegna spesa a domicilio, assistenza e soccorso, ci occupiamo di antincendio e ci occupiamo di sanificazione. Quindi questi due mesi sono stati molto molto intensi, la nostra attività sta continuando effettivamente in modo molto serrato, però stiamo reggendo bene e cercheremo di fare del nostro meglio per aiutare la città di Agropoli.